Musica Lo sport è sceso in piazza all'ombra della pilota con centinaia di mini atleti protagonisti del mini volley dei Ducale manifestazione organizzata dall'Appapar e inclusa nel programma di Parma Città Europea dello Sport 2011 800 ragazzi iscritti che ci stanno dando vita a uno spettacolo unico L'atmosfera è gioiosa, poi vedrete le immagini Chi ha la fortuna di esserci sicuramente non dimenticherà questa giornata 35 campi, 200 squadre iscritte Certamente non abbiamo tutti gli agi di una palestra ma penso che sia veramente un landscape, una location straordinaria quella di Piazza della Pace Io vorrei ringraziare innanzitutto il comune di Parma che ci ha offerto questa possibilità e ci ha supportato nella realizzazione di questo evento e poi tutti i coorganizzatori, a cominciare dalla federazione, l'Energy Volley, l'Appapar ossia l'Associazione Pallavolisti Parmensi e le CONI Ma soprattutto vorrei ringraziare chi ci ha supportato dal punto di vista economico che ci ha permesso di realizzare tutto il circuito ossia la ditta Geosec a cui abbiamo intitolato questo circuito Penso che un'esperienza del genere sia abbastanza unica anche a livello nazionale Portare così tanti ragazzi a giocare in un centro abitato, in un centro pulsante della città un centro, se vogliamo, anche in piena zona artistica è qualcosa di veramente eccezionale Certamente l'impatto è minimo L'impatto è minimo, anche se l'apparenza, sentire parlare di tanti ragazzi potrebbe spaventare Vi assicuro che alla fine il calpestio è qualcosa che verrà a breve rimarginato dalla natura per cui io vedo solamente aspetti positivi in questa esperienza e speriamo di poter riproporre nuove occasioni e lo stesso medesimo copione Grazie a tutti